Siamo Lory al parco e... Kevin? Kevin? Ci dici che sta succedendo? Oh scusate che ho una nuova amica e... Eccola lì! Ciao! Io sono Maya. Voi come vi chiamate? Io sono Lori. O... Corey. Come ti pare? Io Jay. Non mi interessa. Andiamo Kevin. Qua deficiente! No? Dai è carina. Carina? È brutto deficiente ma dove vedi che è carina? La handicappata è talmente rifatta che tra un po' si trasforma in una fogna e comincia a fare la fotosintesi. Ma ce l'hai l'acchio per guardare? Ma non vedi che è una deficiente? Ciao ma io boh... Ma io che ho fatto? Oh Kevin come stai divertente! Ma non ho detto niente! Beh però sono certa che quello che stavi per dire sarà sicuramente stata una cosa divertente! Sicuramente! Quindi... Ehm... Che ci fai qui? Coglioni! Guardate che anch'io ci vado a scuola! Comunque prossima settimana io e Kevin usciamo! Vi va di venire con noi? In realtà non mi interessa! Ti giuro che se mi dici di andare all'uscita con lei e Kevin mamma mia ti faccio diventare un vegetale! Ma cosa ti ha fatto di male? Magari vuole solo attenzioni! Senti a me non me ne frega tensioni e tensioni! Se lei vuole l'attenzione le va a cercare dall'altra parte perché di sicuro io non gli resta da! Tu dico ieri tondo! Io all'uscita non ce vado! Non riesco a credere che mi sono fatto convincere! Ecco siamo arrivati! Kevin perché mi guardi male? Perché non hai vestiti! Ecco ora va meglio! Non mi interessa! Quanto manca ancora? Siamo arrivati! Perché siamo venuti qui per esplorare? Andiamo! Torni attenti quanto può stare sul ponticello! Ecco! Come mai ci hai portato qui? Non mi dico! È ora ragazzi! Corri da C2 avevo detto che ti faceva diventare un vegetale! Ecco! Hai visto? Mo ci pensano loro! Corri Kevin! Non è finita! O forse sì! Corri ci si sono messo содержala! Corri da C2 avevo dentro! Corri! Corri!